Le circolazioni depressionarie in quota presenti sul Mediterraneo e che nei giorni scorsi hanno richiamato aria dai settori orientali sono in fase di progressiva attenuazione e spostamento verso sud-sud-est. È prevista tuttavia una nuova discesa di aria relativamente fredda e perturbata da nord per la giornata di lunedì. Domenica 29 marzo in Toscana, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità sulle zone interne nel pomeriggio, rasserenamento in serata. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime, in lieve calo con possibili gelate nelle vallate più interne, massime stazionarie o in lieve aumento con punte prossime a 20 gradi. Sulla nostra provincia cielo sereno o poco nuvoloso. A Lucca temperatura minima 5, massima 18 gradi. A Castelnuovo minima 1, massima 12 gradi. A Viareggio minima 9, massima 17 gradi.